allora vediamo un po ciao marco sono davide dalle alture della provincia di torino 350 metri sul livello del mare a te marco dal monte palosso provincia di brescia a te benissimo benissimo marco ciao sono un po lontano dal microfono perché sto facendo un video comunque siamo sui 182 o 183 chilometri in linea d'aria in linea ottica io sono liberissimo dalle tue parti a te ancora marco per i saluti va bene ciao marco un saluto da davide dal canale 12 pmr dalla provincia di torino a marco 1 lom 019 provincia di brescia da davide 1 pie 0 20 piemonte provincia di torino ciao marco è stato un piacere bellissimo che collegamento ragazzi a tutti ciao ciao